Con questo video andremo a simulare una domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado di un docente con 4 anni di servizio di ruolo escluso da un incorso, 4 anni di preruolo, 3 di continuità con il ricongiungimento per esempio nella provincia di Agrigento, nel comune di Agrigento, con due figli sotto i 6 anni un concorso ordinario vinto per la scuola secondaria di secondo grado, 3 master di 1500 ore e 60 CFU chiede domande di trasferimento sul posto comune e sceglierà le preferenze. Andiamo immediatamente a fare la simulazione. Bisogna andare a ricercare proprio la domanda, la compilazione, la domanda della mobilità per il secondo grado in questa sezione e andare alla compilazione. Andando alla compilazione si dovrà scegliere, leggere e accettare i termini e le condizioni legali, spuntare queste e poi fare avanti. Una volta fatto avanti si passa nella grafica del docente e facendo ancora avanti si arriva a questa sezione dove ci sono le domande disponibili da poter presentare. Nel caso nostro si tratta di un trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado quindi facciamo inserisci in questa scheda e andiamo a compilare le varie sezioni. Abbiamo detto che prima di tutto ha 4 anni di ruolo escluso l'anno in corso e dunque metteremo 4 nella casella numero 1. Ha pure 4 anni di per ruolo e dunque nella casella numero 3 metteremo pure 4. E 3 anni di continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità dunque nella casella 4 metteremo il numero 3 ovvero gli anni di servizio. Finita questa casella perché non c'è altro da compilare si passa alle esigenze di famiglia. Il ricongiungimento viene fatto nella provincia di Agrigento ma nel comune di Agrigento per cui avrà 6 punti in questo comune. Dopodiché nella casella 9 metteremo il numero dei figli di 3 inferiore 6 anni. Abbiamo detto che questa persona ha 2 figli con età non compiuti ancora i 6 anni. Metteremo 2 e abbiamo finito anche le esigenze di famiglia. Nei titoli generali nella casella 11 metteremo che è superato un pubblico concorso come abbiamo detto per la scuola secondaria di secondo grano. Un concorso ovviamente che sia ordinario. E poi siccome aveva 3 master di 1500 ore anno e 60 CFU alla casella 14 metterà 3 master. Non ha altri titoli da aggiungere per cui si proseguirà saltando la sezione delle precedenze in quanto non ha precedenze ma essendo obbligato invece a compilare la scelta di tipo di posto perché altrimenti il sistema non acquisisce la domanda. Siccome il docente è titolare sul posto normale e chiede trasferimento sul posto normale metterà al livello di posto normale l'indice numero 1. Dopodiché le preferenze. Le preferenze si consiglia di mettere come prima preferenza una scuola della regione, della provincia di Agrigento dove richiede proprio il ricongiungimento. Si sceglierà la Sicilia come regione, la provincia di Agrigento, il comune proprio Agrigento e quindi una scuola di Agrigento. Per esempio il liceo scientifico e delle scienze umane politi dove andrà a dire conferma e così comparirà come vedete come prima scuola la scuola di Agrigento. Poi potrà mettere dei comuni, potrà mettere anche dei distretti, può mettere anche una provincia, non solo per esempio la provincia di Agrigento che potrà andare a scegliere dicendo, mettendo proprio la provincia di Agrigento, ma anche altre province, vedete abbiamo inserito la provincia di Agrigento, potrebbe mettere per esempio la provincia di Enna, sempre in Sicilia, o anche di altre regioni. E così via. Ecco, potrà mettere fino a 15 preferenze tra scuole, distretti e comuni, province, anche di regioni differenti. Proseguendo poi ci avrà la possibilità di dare la disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera, può mettere, sflesciare questo e dunque dare anche l'ok verso scuole di questo tipo, o una sezione carcerare e dunque mettere l'ok qui, oppure la disponibilità all'insegnamento nelle scuole serali. Se non si mette, diciamo, la disponibilità all'insegnamento nelle scuole serali, non si verrà mai accontentati su una scuola serale. E anche per la disponibilità all'insegnamento dei licei europei è la stessa cosa. E potrà poi chiedere anche l'aspirante se vuole una cattedra orario nello stesso comune, o cattedra orario anche in comuni diversi. Se non le clicca tutte e due, o una delle due, questo è nello stesso comune, se cliccando anche in comuni diversi, comprende anche quello nello stesso comune. Poi riempirà l'indicazione degli allegati, allegherà e potrà salvare la domanda, che verrà salvata e acquisita al sistema. Ringraziamo i nostri lettori di aver seguito questo video, faremo altri video dimostrativi per la mobilità. Seguiteci nel nostro sito www.tecnascuola.it, nel nostro canale YouTube, perché faremo altri video sulla mobilità. Arrivederci a tutti i nostri lettori.